Si è chiusa ieri sera la tre giorni dedicata al mondo dell'agricoltura in tutta la sua diversità, che quest'anno ha raccolto 40 espositori in più su oltre 20.000 metri quadrati. La 28esima edizione della Fiera dell'Agricoltura ha visto infatti la partecipazione di 200 espositori provenienti da 8 regioni, dove come sempre domina la gastronomia con prodotti locali. Per la 28esima edizione, nuovo record di presenze, quest'anno infatti sono stati circa 30.000 gli accessi dei visitatori nei tre giorni di fiera. Grande affluenza non solo di pubblico ma anche di studenti, 500 ragazzi delle scuole cittadine hanno infatti visitato il Rozi nei primi due giorni di fiera per prendere parte ai laboratori didattici e ai convegni organizzati dall'Istituto. Assaggio dell'olio, estrazione del DNA da kiwi e pomodori, conoscenza delle erbe spontanee o della filiera del miele e simulazione della ricerca del tartufo con cani addestrati. Sono state solo alcune delle attività ideate a beneficio dei visitatori. È stata una grande festa, ricca di cultura, ricca di argomenti importanti toccati all'interno dei convegni che sono stati svolti tutta la giornata di venerdì e sabato. La grande partecipazione di tutte le scuole. Insomma si toccava con mano l'entusiasmo che questa location della scuola insieme a tutta la fiera dell'agricoltura ha sicuramente portato nel cuore dei nostri ragazzi. Quindi noi speriamo che sia un trampolino di lancio per i nostri giovani che possano rivalutare il proprio territorio.